Molti ci chiedono che cos'è il cutoff. Andiamola a vedere sul Remarkable così ve lo disegno in maniera molto molto semplice. Intanto per cutoff si intende proprio un taglio. Ok cut taglio off taglio fuori. Andiamo a vedere che cosa vuol dire. Queste sono le nostre frequenze rappresentate in Hertz e il cutoff sarà il punto di taglio delle nostre frequenze. Quindi questo taglio di frequenze avverrà a una specifica frequenza. Il punto di taglio di frequenze immaginiamo è mille quindi sto facendo un cutoff intorno ai mille Hertz. Ovviamente mi posso muovere sullo spettro di frequenze e fare appunto un taglio un cutoff alla frequenza desiderata. Ovviamente che cosa succede che in questo punto di taglio vedete può intervenire un'altra variante che è la resonance. La resonance è ciò che vado a enfatizzare proprio immediatamente prima della curva di taglio. Qui posso andare ad applicare una notch quindi vado a colorare proprio quella parte di frequenze immediatamente prima della parte di taglio con un notch. Quindi alzo proprio quella parte di frequenze prima del taglio. Quel notch può essere più o meno ampio. Vieni a vedere ancora questo notch può essere piccolino ma può essere anche molto molto ampio. Ma andiamola a vedere su un synth come suona. Quindi il resonance in questo momento a zero semplicemente per farvi vedere quanto interviene il cutoff. Molto chiuso. Lo vado ad aprire. Se aggiungo anche la resonance. Che altri parametri volete che vi spieghiamo? A proposito sulla parte di synth c'è anche un video sulla DSR che potete andare a vedere. Ciao!